Allora avevo una mia tecnica per prendere, quando trovavo una tanna di Saraghi e di Corvina, avevo una mia tecnica per prendere due o tre pesci in una sola immersione, caricando e sparando per due o tre volte di seguito nella stessa immersione. E a Merico quando da vicino si rese conto che in ogni immersione eravamo su una zona con molto pesce bianco, in ogni immersione io prendevo due o tre Saraghi, lui invece ne prendeva uno e comunque era sempre in ritardo sul mio ritmo. A un'ora e mezza prima della fine della gara si avvicinò, stesse in acqua, mi strinse la mano e dissi continua così perché sicuramente vincerà il campionato del mondo. Datti da fare, io un po' commosso per questa sua, era un personaggio che io stimavo molto, un po' commosso mi impegnai di più a aumentare il ritmo, così riuscii a concludere il campionato del mondo vincendo una gara che non mi sarei mai aspettato per tutto quello che avevo subito prima della gara. Grazie per la visione!